di carne prima di andare via perché poi quando sei via costa caro la carne è mica ora che mangi... io mi metto la bresaura nella valigia quale bresaura? quella del supermercato una bresaura? perché via non ci sono la bresaura? costa tantissimo quel pacchettino costa 7-8 euro ma ascolta puoi portare quella roba lì? se no se ne accorgono si... di solito se ne accorgono poi fanno un banchetto e festeggiano e la mangiano tutti assieme ma posso mangiare anch'io tu te ne vai la roba resta lì? mannaggia! quanti profumi e roba così che che devono lasciarla giù che non si può ma io metto nella valigia ma nella valigia te la guardano io sopra ci scrivo regalo per mamma luigina così loro dicono ah si è quella signora che apre sempre i regali e magari ma possiamo farlo ma...